Ciao amici di Youtube, con voi di nuovo Roski Gamer e oggi cercherò di completare qualche sfida che mi avete assegnato in diversi, sia i miei amici compagni di classe, sia i giocatori in globale. Intanto voglio anche ringraziare i miei 13 iscritti che ho raggiunto in 4 giorni, grazie davvero perché non me lo aspettavo proprio. Spero vi piaccia questo video, ho cercato di fare del mio meglio e giuro di non aver trasgressato i patti della sfida. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video. 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 Noi ci vediamo al prossimo video.